Una potente. La Russia ritira il suo contingente militare dalla Bielorussia. Con un segnale che potrebbe alleviare le tensioni regionali o indicare che i soldati in Ucraina iniziano a scarseggiare, la Russia ha annunciato il ritiro delle sue forze militari dalla vicina Bielorussia. Questa mossa è stata accolta con attenzione da parte delle autorità di frontiera Ucraina e dei monitor indipendenti bielorussi. Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko aveva annunciato nell'ottobre 2022 il dispiegamento di un gruppo congiunto regionale di forze militari, affermando che l'Ucraina stava preparando un attacco contro il suo paese. Questa dichiarazione aveva aumentato le tensioni nella regione e aveva sollevato preoccupazioni tra i paesi confinanti. Tuttavia, giovedì scorso, il servizio di frontiera statale dell'Ucraina ha annunciato che quasi tutte le forze russe in Bielorussia sono state ritirate o sostituite. Il portavoce, Andriy Demkenko, ha dichiarato durante una conferenza stampa che non sono state introdotte nuove unità russe e che la presenza militare attuale della Russia in Bielorussia non rappresenta una minaccia immediata per un'eventuale invasione dell'Ucraina da nord. L'osservatorio indipendente noto come Belarus-Kyayun, ha confermato il ritiro delle forze russe. Secondo l'osservatorio indipendente, il personale russo si è completamente ritirato dalla Bielorussia all'inizio di luglio, seguito dall'intero gruppo di aviazione all'inizio di agosto. Ciò include 11 elicotteri d'attacco e da trasporto, nonché 9 aerei da caccia, che sono tornati alle loro basi russe di origine. Tuttavia, rimane una questione aperta riguardo a circa 2.500 combattenti per la compagnia di mercenari Wagner, che avevano concordato di essere schierati in Bielorussia dopo un fallito tentativo di ammutinamento durante l'estate. Secondo il sito investigativo russo Histories, questi combattenti sembrano ancora essere presenti in Bielorussia. Il Ministero della Difesa russo non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito al ritiro delle sue truppe. Questa situazione è stata motivo di preoccupazione nella regione, in quanto la presenza militare russa in Bielorussia ha alimentato timori di ulteriori escalation e ha contribuito a una serie di tensioni politiche. L'alleato di lunga data del presidente russo Vladimir Putin, Lukashenko, è stato accusato di facilitare l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, permettendo alle forze russe di utilizzare il territorio bielorusso per pianificare e lanciare attacchi. Sebbene la Bielorussia abbia fornito sostegno logistico alle forze russe, ufficialmente ha mantenuto la sua posizione di non belligeranza nel conflitto. Questa mossa di ritiro potrebbe rappresentare un segnale di distensione nelle relazioni tra Russia, Bielorussia e Ucraina. Tuttavia, rimangono in certe le implicazioni future di questa decisione e il suo impatto sulle dinamiche regionali. La comunità internazionale osserverà da vicino gli sviluppi futuri in questa delicata situazione. La Romania valuta l'evacuazione di una città al confine con l'Ucraina per proteggere gli abitanti dal pericolo di attacchi russi. Un membro della NATO, la Romania, sta valutando l'evacuazione della città al confine di Plauru, giorni dopo che le autorità hanno per la prima volta riconosciuto che detriti di un presunto drone russo sono caduti sul suo territorio. Tudor Kernega, il sindaco della comunità rumena di Ciatalchiai, ha tenuto un incontro con il ministro della difesa del paese e ha suggerito l'evacuazione dei residenti di Plauru, situata a circa 300 metri dal porto fluviale del Danubio di Ismail nella regione meridionale di Odesa, in Ucraina, come riportato dall'outlet di notizie rumeno DG24. Il ministro della difesa della Romania, Angel Tilvar, ha dichiarato mercoledì che detriti di un possibile drone russo erano atterrati vicino a Plauru. Lunedì, l'Ucraina aveva affermato che un drone kamikaze Shahed di fabbricazione iraniana era esploso in territorio rumeno durante un attacco russo al porto di Ismail in Ucraina, ma la Romania aveva inizialmente respinto tali affermazioni. Kernega ha dichiarato che i residenti della città al confine dovrebbero evacuare volontariamente a causa degli attacchi regolari russi contro il loro vicino. «Ho bisogno di mettermi in contatto con i residenti locali, e coloro che desiderano trasferirsi volontariamente dovrebbero essere messi nelle stesse condizioni degli ucraini, ossia alloggio e cibo», ha detto il sindaco. Il sindaco ha chiesto alle autorità di sostenere i residenti di Plauru, che hanno riferito da più di un mese che droni russi che prendono di mira il porto di Ismail in Ucraina sorvolano le loro case, con alcuni detriti che cadono vicino alla città. «Quando vai a letto, pensi se ti sveglierai la mattina», ha citato un residente non identificato di G24. Un altro residente, Marcel Ni, ha dichiarato alla pubblicazione di non temere un potenziale attacco russo. «La prima volta che è scoppiato, mia figlia maggiore aveva paura, ma ora non ha più paura. Esce anche lei e guarda. Non lascerei il villaggio». «Perché dovrei», ha detto Ni. L'altra notte, da lunedì a martedì, quando è scoppiato, una finestra è caduta dal mio balcone. Si è rotta in tre pezzi. NATO sta continuando a monitorare attentamente la situazione e rimane in stretto contatto con il nostro alleato», ha dichiarato la NATO in una dichiarazione rilasciata mercoledì sera. Il Ministero della Difesa della Romania ha dichiarato che verrà effettuata un'analisi tecnica per determinare l'origine e le caratteristiche dei detriti caduti sul suo territorio. Il colonnello Andriy Demchenko, portavoce del Servizio di Frontiera dello Stato dell'Ucraina, ha dichiarato all'outlet di notizie ucrainska Pravda lunedì che le guardie di frontiera hanno registrato due detonazioni su suolo rumeno. Attraverso i canali di comunicazione designati, le guardie di frontiera ucraine hanno informato i loro omologhi rumeni di aver registrato due detonazioni sul territorio della Romania in determinate aree durante l'attacco russo con droni senza pilota UAVU, ha detto Demchenko. Una grana politica nella scuola russa di Perm solleva domande sull'educazione patriottica. Un gruppo di insegnanti russi ha abbandonato il proprio lavoro in seguito al rifiuto di permettere a veterani ucraini di insegnare lezioni obbligatorie che ritengono promuovano la guerra tra i bambini. Questo episodio mette in luce il dilemma che affrontano gli insegnanti russi che desiderano mantenere la politica lontana dalla classe. Almeno dieci insegnanti e il preside della scuola numero 12 nella città degli Urali di Perm hanno rassegnato le dimissioni a seguito delle accuse degli attivisti filoguerra, i quali li accusavano di minare un corso patriottico chiamato E conversazioni importanti, introdotto nelle scuole russe poco dopo l'invasione dell'Ucraina dello scorso anno. «Io credo che promuovere la guerra sia sbagliato, ed è per questo che al momento non posso continuare a lavorare nella scuola», ha dichiarato uno degli insegnanti dimissionari al Moscow Times. È davvero difficile per i bambini quando alcuni insegnanti dicono che la guerra è terribile e allo stesso tempo la promuovono. La scuola numero 12 di Perm è finita nella bufera già a maggio, quando un genitore di un aluno ha invitato veterani della guerra in Ucraina a tenere una conferenza delle e conversazioni importanti. Inizialmente, le autorità scolastiche hanno respinto la proposta, sostenendo che la scuola fosse apolitica. Tuttavia, la scuola è presto stata sotto pressione da parte di gruppi filoguerra, che hanno accusato le autorità scolastiche di mancare di patriottismo. Hanno persino presentato una denuncia al Dipartimento dell'Istruzione della città e hanno visitato la scuola, creando un ambiente teso. Il mese scorso, questo episodio ha portato alle dimissioni del preside della scuola e di altri dieci colleghi, secondo quanto riportato dal sito di notizie indipendente MediaZona. La Russia ha intensificato gli sforzi per promuovere l'educazione patriottica nelle scuole dal lancio della sua offensiva contro Kiev l'anno scorso. I critici affermano che questa iniziativa miri a insegnare ai bambini una versione revisionista e a indottrinarli contro l'Ucraina e l'Occidente fin dalla giovane età. A partire dall'anno scolastico 2022-2023, le scuole russe hanno iniziato ogni settimana con una cerimonia di innalzamento della bandiera e dell'ino nazionale, seguita dalle lezioni delle e conversazioni importanti. Queste lezioni, basate sulle raccomandazioni del Ministero dell'Istruzione, mirano a insegnare agli studenti i valori e la storia del paese, nonché la narrazione di Mosca sulla sua offensiva in Ucraina. Il primo settembre, il presidente Vladimir Putin ha aperto il nuovo anno scolastico tenendo una lezione delle e-conversazioni importanti, con un gruppo di 30 studenti. Queste e-conversazioni importanti rappresentano solo uno dei diversi cambiamenti che il governo russo ha implementato nelle scuole dall'inizio della guerra. A partire da settembre 2023, gli studenti delle scuole superiori russe delle classi 10 e 11 riceveranno una formazione militare di base, imparando a utilizzare fucili d'assalto Kalashnikov, lanciagranate, a pilotare droni e a fornire il primo soccorso. Quest'anno scolastico, la Russia ha anche introdotto nuovi libri di testo di storia per le classi 10 e 11 che giustificano l'invasione dell'Ucraina come autodifesa e un atto legittimo. Tuttavia, dall'inizio della guerra, alcuni russi, tra cui insegnanti e professori universitari, hanno perso il lavoro dopo aver espresso sentimenti anti-guerra. Secondo quanto riferito da un'insegnante intervistata dal Moscow Times, i bambini sono inevitabilmente coinvolti nelle discussioni sulla guerra a scuola. Da quando è iniziata la guerra, molti studenti erano spaventati e preoccupati per se stessi e i loro genitori, ha detto l'insegnante. Quelli più grandi hanno correlato gli eventi della Seconda Guerra Mondiale con la guerra in Ucraina. Dicevano, ora siamo noi i fascisti. Secondo l'insegnante, le sconversazioni importanti e altri eventi promilitari potrebbero accentuare questi sentimenti tra i bambini, sollevando interrogativi su come queste informazioni possano influenzare la psiche dei più giovani. In conclusione, quest'incidente evidenzia le complesse dinamiche tra politica ed educazione in Russia e solleva domande importanti sul ruolo dell'istruzione nella formazione delle opinioni dei giovani.